Crepuscopoli Cafè è la nuova rubrica di Venten di Paperoni, ideata dai fan della saga di Kingdom Hearts. Nel 4 vi vedremo insieme tra approfondimenti, curiosità e classifiche legate alla serie. Oggi partiremo con uno dei simboli più iconici della saga, la Gummiship. E cercheremo di capire se è vero che inizialmente doveva essere un vaporetto simile a Steamboat Willie. Se è la prima volta che sentite parlare di Kingdom Hearts, Crepuscopoli e amenità varie, grazie per la fiducia, ma sarete, immagino, parecchio confusi. Che cos'è questa Gummiship di cui parliamo oggi? Presto detto, in Kingdom Hearts il giocatore viaggia tra vari mondi, dei pianitucoli tutti separati tra di loro, che possono essere originali del gioco o ispirati ai classici Disney e film Pixar. Per compiere questi viaggi ovviamente serve un mezzo di trasporto, e questo mezzo è la Gummiship. Un'astronave che usa i sorrisi come carburante e che può essere personalizzata dal giocatore. Come mai questo strano nome potreste chiedere? Ma anche in questo caso è presto detto. Come ho già detto poco fa, la Gummiship può essere personalizzata. Infatti è un'astronave a blocchi, composta di varie parti che possono essere aggiunte o tolte a piacimento. Queste parti sono appunto i Gummip, da cui il nome di Gummiship. La Gummiship appare già nel primo capitolo della serie. La usano infatti Paperino e Pippo per raggiungere la città di mezzo, un altro mondo originale come Crepuscopoli. Qui incontrano Sora, il protagonista. I tre tutti insieme partono per quella grande avventura che costituisce il primo capitolo della saga di Kingdom Hearts. La nave torna in tante altre occasioni e ci regala sequenze di gameplay piuttosto interessanti. Ma di questo non parlerò io. Lascio infatti la parola a Bruno, che vi mostrerà come si guida la Gummiship. Ma come funziona la navetta? Beh, il gameplay dei viaggi tra i mondi rimarrà pressoché lo stesso in tutti e tre i capitoli in cui ci ritroveremo a usare la Gummiship. Anche se effettivamente esisteranno delle differenze. In Kingdom Hearts 1 dovremmo preoccuparci soltanto di muovere la Gummiship, di manovrarla e non di farla andare avanti, dato che effettivamente si muoverà da sola. Il giocatore avrà quindi facoltà di controllare solo la direzione della navetta, senza doversi preoccupare di attivarla. Ma se per caso volessimo accelerare o rallentare il suo corso, potremmo farlo utilizzando i comandi turbo e freno. Anche se quest'ultimo non corrisponde a una vera e propria frenata, quanto più a un rallentamento della velocità. L'HUD presente nei livelli di viaggio ci mostrerà i punti vita e i punti magia della nave, qui utili a stabilire la potenza di fuoco della Gummiship. Nel secondo capitolo numerato della saga, che fra parentesi è il mio preferito, il gameplay dei viaggi Gummiship sarà molto simile a quello di uno sparatutto su binari, abbandonando quindi il feeling da combattimento aereo. Qui le sessioni sulla nave diventeranno un vero e proprio minigioco, che una volta completato ci garantirà accesso diretto ai mondi. A differenza del primo capitolo, qui lo schermo sarà letteralmente invaso di nemici, che faremo fuori con più o meno difficoltà a seconda della situazione. Un altro cambiamento degno di nota sta nella possibilità di aggiungere delle navette, le miniships, ai lati della Gummiship, in modo tale da aumentare la potenza di fuoco. Oltre al solito counter che ci permetterà di tenere conto dei punti vita della nave, sarà presente anche un HUD specifico per il conteggio dei punti che il giocatore accumulerà durante il viaggio. Infine, in Kingdom Hearts 3, i viaggi Gummiship saranno strutturati in maniera radicalmente diversa rispetto a quanto visto finora, proponendo una struttura open world in cui il giocatore avrà pieni poteri. Stavolta saremo noi a dover scaldare i motori, e sempre noi sceglieremo il percorso che più ci algrada, facendo attenzione alle navi nemiche che saranno disseminate lungo tutto il tragitto. A differenza dei capitoli precedenti, infatti, le sessioni sulla nave non saranno necessariamente dei combattimenti, dato che, come appena detto, i nemici appariranno solo in determinate zone della mappa, facendo entrare il gameplay in modalità battaglia solo quando e se il giocatore deciderà di affrontarli. Passando alle similitudini con i capitoli precedenti, anche qui avremo il solito HUD che mostrerà al giocatore lo stato della nave, accompagnato da un utile indicatore del turbo. Un'altra componente fondamentale dei gameplay della Gummi Ship sono i blocchi Gummi, o Gummi Block. I Gummi Block sono quanto resta delle barriere dei mondi dopo la frantumazione di queste ultime, avvenuta nel primissimo capitolo della saga, e permetteranno al giocatore di modificare a piacimento struttura e caratteristiche della propria nave. Esistono moltissimi tipi di blocchi Gummi, tutti con la loro funzione specifica, e i modi per ottenerli cambiano in tutti e tre i titoli in cui appare la Gummi Ship. Anche se il loro scopo resta sempre lo stesso, potenziare la nave. Inizialmente la Gummi Ship non doveva avere questo aspetto, forse. Di fatto esistono diverse teorie online secondo cui la navicella di Kingdom Hearts non sarebbe dovuta essere un semplice carro che trasporta Sora, Pippo e Paperino in giro per i mondi. In base a un'immagine che abbiamo trovato online dal fandom di Kingdom Hearts e che viene ripresa da numerosi video online negli Stati Uniti, la Gummi Ship doveva avere un altro stile. Quello di un vaporetto spaziale, il cui aspetto e la cui forma ricordano in maniera impressionante un altro celebre vaporetto. Steambot Willy. E' ipotizzabile pensare infatti che la prima Gummi Ship dovesse far riferimento all'illustre battello guidato da Topolino nell'omonimo cortometraggio. Inoltre dallo stesso bozzetto possiamo ipotizzare che la nave fosse anche abitabile. Anche qui dunque è ipotizzabile immaginare che negli intenti iniziali la Gummi Ship fosse un mondo giocabile. Forse una vera e propria base operativa per i protagonisti del gioco. Questa bozza ci fa anche ipotizzare che la Gummi Ship dovesse essere un mondo molto simile a quello della balena che incontriamo nel primo capitolo della saga. Oltretutto, secondo Kingdom Hearts Ultimania, proprio all'interno della nave Sora e compagni avrebbero dovuto affrontare il boss che troviamo nella pancia della balena. In quanto quest'ultima, inizialmente, sarebbe dovuta essere un nemico dei nostri eroi. Tuttavia, queste sono solo ipotesi. Non sappiamo se questa immagine è stata realizzata da uno dei lavoratori del team di Nomura. Così abbiamo pensato bene di rivolgerci direttamente alla Square Enix, in particolare alla sezione del Nord America, poiché presenta un form per l'invio di richieste di informazioni. Ciò che abbiamo chiesto è se effettivamente la Gummi Ship nei piani iniziali fosse un mondo giocabile e avesse dei forti riferimenti con Steambot Willy. Inoltre, abbiamo chiesto se l'immagine trovata online da cui partono le attuali teorie sia vera. Abbiamo aspettato qualche settimana, purtroppo però non abbiamo ricevuto risposta. In caso di aggiornamenti, vi faremo sapere. Intanto passo la parola ad Antonio. Una curiosità, il nome della prima Gummi Ship di Sora cambia in base al vincitore della corsa all'Isola del Destino. Se a vincere Sora si chiamerà Kingdom, se invece a prevalere Riku si chiamerà Iguild, termine ricorrente della serie Final Fantasy. In Beardy Baselip, Ventus e gli altri si spostano invece che con la Gummi Ship attraverso le vie interdimensionali. Induziando una speciale armatura di protezione e trasformando il proprio Keyblade, sono in grado di guidare degli speciali mezzi di trasporto che gli permettono di viaggiare tra i mondi. Il metodo più rapido, ma anche più pericoloso per spostarsi di Kingdom Hearts, sono i Corridoi dell'Oscurità. Queste sono vie nascoste che collegano il reame della luce con quello dell'Oscurità e possono essere aperti solo da coloro che controllano il potere della Darkness. Nel lungo andare, però, i Corridoi Oscuri corrompono con il loro potere malefico i cuori dei viaggiatori. Per questo motivo Topolino, Riku e i membri dell'Organizzazione XIII, quando li utilizzano, indossano i particolari sopravviti neri. Controparte positiva dei Corridoi Oscuri sono i varchi o le vie di mezzo. Queste possono essere aperte dai portatori del Keyblade tramite degli oggetti speciali oppure tramite il solo Keyblade, se sufficientemente esperto, e nel modo con il quale Sora, nel terzo titolo, riesce a raggiungere il mondo di Hercules. La Gammyship è il mezzo di trasporto preferito di Sora per viaggiare negli straordinari mondi della saga. Un po' quello che faremo noi con Crepuscopoli Cafe, esplorando un pezzetto di Kingdom Hearts alla volta. Le curiosità oggi finiscono qui, ma l'appuntamento è il prossimo video di Crepuscopoli Cafe. May your heart be your guiding key. La Gammyship è la Gammyship è la Gammyship.